Ciao, sono Giorgia e oggi vi presenterò queste due magnifiche vetture, l'Audi Q5 e la Mercedes GLA. La prima vettura che vi presento è l'Audi Q5. Design massiccio e classica calandra Audi single frame ne distaccano prepotentemente la linea dalle concorrenti BMW X3 e Mercedes GLK. Particolare la fanaleria LED sia all'anteriore che al posteriore con proiettori anabaglianti all'oxenon che migliorano la visibilità notturna e diurna. Modanature e mancorrenti cromati danno un ulteriore tocco di eleganza. Seduti al posto guida notiamo subito la grande qualità nei dettagli. Della stessa fattura l'accoppiamento dei materiali sempre esenti da scricchioli e non enorme il bagagliaio da 540 litri che abbattendo i sedili posteriori arriva fino a 1560. Grazie ai sensori di parcheggio le manovre saranno al massimo della sicurezza. Questa vettura monta un motore 2000 turbodiesel da 177 CV in abbinamento al cambio automatico a 7 rapporti S-Tronic con l'aggiunta della famosa trazione 4. Oggi tutti vogliono il crossover e anche Mercedes ha il suo GLA. La prima compatta rialzata con la stella a tre punte sul cofano tecnicamente deriva dalla classe A ma ci sono molte differenze rispetto a quello che si potrebbe pensare a prima vista. La forma allungata dei fanali posteriori danno un'idea di vettura molto larga rispetto ai suoi effettivi 1,80 m. È stata completamente ridisegnata rispetto alla sorella minore ed è più alta da terra di 6 cm. Seduti al posto guida ci troviamo di fronte ad una plancia moderna e sportiva caratterizzata da 5 bocchette dell'aria di forma circolare ed inserti in alluminio molto eleganti, uno schermo tipo tablet per i servizi di bordo, una plancia comandi molto ben distribuita e accessibile. Questa vettura nel particolare monta un consolidato 4 cilindri in linea da 2,2 litri e 136 cavalli, brioso nelle prestazioni e parco nei consumi. Queste splendide vetture potete trovarle presso la Tomasi Outlet al prezzo di 29.900 euro per l'Audi Q5 e 27.400 per la Mercedes GLA Sport. Venite a provarle da noi, vi aspettiamo!